Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E anche vorrei incominciare ringraziando quel gruppo che si manifesta e lotta per i dimenticati di Lidlib. Grazie, grazie a quello che fate. Saluto l'Associazione e i gruppi che si impegnano in solidarietà con il popolo siriano, specialmente con gli abitanti della città di Lidlib e del nord-est della Siria, vi sto vedendo qui. Cari fratelli e sorelle, rinnovo la mia grande appreensione, il mio dolore per questa situazione disumana, di queste persone inermi, tra quei tanti bambini che stanno rischiando la vita. Non si deve distogliere lo sguardo di fronte a questa crisi umanitaria, ma darle priorità rispetto ad ogni altro interesse. Preghiamo per questa gente, questi fratelli e sorelle nostri, che soffrono tanto al nord-est della Siria, città di Lidlib.